Io se vuoi... è pronto? Sì. Se vuoi ti faccio vedere un video per quello che interpreto io per il cuore della situazione. Ti faccio vedere un comportamento pazzesco. Il pazzesco a volte è un po' pazzo, però può essere in positivo o può essere in negativo. Questo è un comportamento pazzesco nella bellezza, secondo me. Lo guardiamo e poi così abbiamo tutto più chiaro. Ok. Questo mi sembra che sia Seidu Keita e questo è Momo Salah. Guardate Salah. Grazie. Grazie. Basta. E' semplice. No, no, ma non è andata a riprendere una palla. Non è andata a riprendere una palla. Voi mi avete preso per il culo per anni sui comportamenti giusti. Questo è un comportamento giusto. Questo è un comportamento giusto.